E dunque dopo gli ultimi giorni di passione l'allerta per il maltempo in Alto Adige è ormai alle spalle ma i lavori di ripristino continuano senza sosta e sono tutt'altro che finiti soprattutto nel campo dei trasporti diverse le strade ancora interrotte così come la linea ferroviaria della Val Pusteria che non riaprirà prima di un mese. Luigina Venturelli. È rientrato il preallarme in maltempo a livello d'allerta ma restano ancora tutti da quantificare i danni provocati in Alto Adige da sette giorni di precipitazioni incessanti. Servirà lavorare intensamente per almeno un mese per ripristinare la circolazione ferroviaria in Val Pusteria. Stamattina a Val d'Aora i geologi insieme al sindaco e agli assessori provinciali competenti hanno ispezionato la voragine creata dallo smottamento che si è portato via la massicciata sotto i binari e non hanno lasciato illusioni agli abitanti del posto e ai turisti che tra i dieci giorni inizieranno ad arrivare per l'avvio anticipato della stagione sciistica. Il tratto settentrionale della ferrovia resterà inagibile fin quasi a Natale. Per la valle è proprio un problema perché le persone non possono più usare il treno devono prendere i pullman, i bus o le macchine per arrivare ai posti di lavoro. Del resto la linea su rotaia della pusteria è stata l'infrastruttura più martoriata dalla pioggia e dalla neve cadute sul terreno non ancora ghiacciato dunque più permeabile. Ma gli smottamenti minacciano tutto il territorio provinciale, in particolare la Valbadia, dove questa mattina la strada è stata nuovamente chiusa. Ieri la procura di Bolzano ha deciso di aprire un fascicolo per disastro colposo sulla frana che lunedì scorso ha fatto uscire un treno dai binari con alcune persone a bordo. Un atto dovuto non ci sono stati feriti, ma la magistratura vuole escludere possibili responsabilità penali nell'incidente.